non ti metti a fare il professore con me, capito? che già ce ne sono tanti qua tu t'è stasito, t'è stasito, puoi venire a farci una palliata? palliata, due L! e io ti faccio una palliata con una L, va bene? e ora cammina, 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 non ti ferma mai, piglia! ambulare non posso, me, esaustus, sum meso alto, non meso alto, tu devi camminare a camminare, come te la già dici a camminare? non mi fido, non mi fido sono mesi e mesi che chiamo annanziareta arete annanza ma, capo, liternum, su estula, taestum ma quando giungimmo a d'artella a d'artella? tutti qui quando giungimmo a d'artella? a d'artella? hai capito se no? e bu, ambula, ambula via, ambula ma io arranco, non vedi che è sbando sbianco, come te la già dici che sono stanco e come te la già dici che tu non vuoi essere stanco tu sei stanco quando te lo dico io lo vuoi sapere quando sei stanco? sin, sin scemo, come sei stanco? non te ne sei neanche accorto e adesso ti puoi pure riposare, vai ah, 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 oh di via ah, 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 questo è l'aria che volevo risciare e si capisce dopo tua condanna a ostracismo e ostracismo a me non me l'ha detto mai nessuno io mi spostai su ponte mea e su ponte tua tu torni al tuo paese paese? chiamalo paese, questo è un paese a mio danno saranno quindici decumani non pacus sed ulus traduce, traduce, non te capisci non villaggio, ma città e che bella città, Adelma bellissima e famosissima in tutto il mondo in tutto l'impero, come a Kuma, come come a Kuma? eh, ma vai parlare come a Kuma, come a Kube eh, come Meneapolis, come Paestum come dici tu va bene, e poi e ora cammino guarda, guarda, guarda tu stesso, vedi? guarda, guarda quante ville guarda quante ville guarda quella villa che sta scelta uscire a quella villa? leggi, leggi, leggi Cabe Canem e questa è la villa di Mecenate e quell'altra villa, vedi che sta scelta? Cabe Canem e non ti puoi sbagliare è la villa di Tiberio Tiberio e guarda anche quell'altra villa lì sì che villa è che sta scelta? Carpedina e Carpedina è la villa di Orazio non si puoi sbagliare e quei fumi quei fumi che si innalzano quei fumi quella lì si vede sono delle terme la esce dell'acqua calda Orazio perciò si fermava qua e per Maldicola qua abbiamo il fiume Clario ci sono le terme più avanti guarda, non lo vedi che cosa è questo? è l'amfiteatro anfiteatro? eh? fando teatro sono i primi a Roma non si parla di altro che della pavola dell'ana delle maschere dell'ana macus bucus pappus tosserus chichiro no e e dimmi e dimmi e dimmi questi che lingua parlavano? che dialetto parlavano? forse l'osco? di un osco un poco un poco fosco diciamo a tinte rusche e il tanto che hai cantato teatro latino una tragedia una tragedia e e e dimmi e dimmi una tragedia e di ispirazione grecoattica grecoattica voi in questo momento mi sono impreparato ma non fate certo sì che da venerdì sera a lunedì mattina Roma era deserta tu che dici i fumi i senatori i consoli anche la prepagna tutti a correre qua ad Atenas si e e Ottaviano permetteva tutto ciò ab inizium ab si ab inizium si ab inizium no come no? dirlo che devo dire ab inizio comunque ab inizio si comunque poi quando vieni a sapere degli amfidiati e terni giute delle taberne vuote non c'è la facente giù e e questa gente raggiungeva Roma da Roma raggiungeva anche quando vieni a sapere di questo mio maio di cocchi sull'acqua di queste bruttate cavalli a chi arrivava prima la gente a piedi così a terra cina non ti dico quello che succedeva sulla pettuccia non ce la facette giù convocò il senato populistro però voi mi dovete dire perché correte tutti ad Atenas si nessuno sa rispondere maio paura chiamatemi plaudo chiamatemi plaudo ah tito maccio plaudo dico bene tito maccio maccio perché tu hai fatto l'attore nelle maschere italiane nelle vesti di marcus dico bene io sì imperatore tu mi devi dire perché corrono tutti ad Atenas che c'è a questa Atenas che tutti corrono un po' là imperatore un po' là c'è Sandra ferma la bella che fanno la consulata e l'uomo che fanno schiattare le salle e rosse atto quel teatro guarda figlio come si è detto tu hai rosse atto quel teatro non ce la facette giù ha raffetto un percorso indicetta populiscono e no populiscono e no si Atene vuole piangere Roma ah 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 vuole ridere Claudio vieni a ca chiamano chiamano orio parla anche un po' con comporio vedete Terenzio che ne pensa vedete che cosa dovete fare portatemi la pappola qua ah e e e e come andrò a finire mi sono accanito questa storia si accaniti si accaniti gli esibili che stanno qua tra poco devono andare a mangiare questi non la finiscono mai ah non permesso si e ma tu tu parli a me parli a me di orsi casuali tu parli a me di allibare tu parli a me di distruzione sarà materia di prossima orazione grazie 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 grazie